Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua il corso introduttivo ad After Effects Oggi studieremo l'interfaccia grafica del software Vedremo che cos'è quello che avete qui davanti ai vostri occhi Prima però vi ricordo come sempre www.fabioambrosi.it Sito dove troverete l'indice con gli argomenti che affronteremo in questo corso Troverete anche il corso introduttivo ad Adobe Premiere Se volete imparare a montare, a editare i vostri video come un professionista Se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale YouTube E cercatemi su Facebook Cercate Fabio Ambrosi, la pagina E lì troverete tutte le novità a mano a mano che ce ne saranno Torniamo al nostro video tutorial Torniamo ad After Effects Che cosa impareremo? Impareremo oggi come funziona l'interfaccia di After Effects Chi ha già esperienza con altri software Adobe Adobe come Premiere, Photoshop Già più o meno saprà orientarsi Perché Adobe nei suoi software ragiona un po' sempre allo stesso modo Tutto viene organizzato in pannelli Ogni pannello è personalizzabile, è disancorabile, spostabile, modificabile E quello che avete qui davanti ai vostri occhi Non è altro che un'organizzazione già pensata ad After Effects Ma la disposizione dei pannelli che vedete qui davanti a voi È totalmente customizzabile Quindi dicevo, chi già ha esperienza con Adobe Con i software Adobe Troverà molto semplice questo tutorial Chi invece non sa di cosa stiamo parlando Ecco, si sieda con calma E vediamo subito meglio di che cosa si tratta Iniziamo subito col dire Che appena aprite After Effects Dopo la pagina di benvenuto Chiusa la pagina di benvenuto Trovate davanti a voi una situazione simile a questa Parliamo di After Effects 2020 Quindi mi raccomando Aggiornate all'ultima versione disponibile Se ne avete la possibilità Che cosa avete davanti a voi? Avete sostanzialmente delle aree Ok? Aree di lavoro Ok? Dei pannelli Ogni pannello in Adobe Raccoglie al proprio interno Organizza al proprio interno Tutti quegli strumenti che sono utili Per una determinata funzione Per un determinato scopo Per esempio Qui al centro abbiamo il pannello composizione In questo pannello Noi possiamo all'inizio Quando non esiste ancora una composizione creata Creare una nuova composizione Oppure vedere quello che è il risultato Del nostro lavoro Vi faccio un esempio Una volta creata una composizione In questo pannello ho il monitor In cui vado a visualizzare Quello che materialmente vado a fare Nel mio progetto After Effects Torniamo indietro Chiudiamo il progetto Così da tornare indietro Altri pannelli Ovviamente abbiamo un pannello chiamato progetto Un po' come in Adobe Premiere Il pannello progetto È il pannello in cui andremo ad importare Il nostro materiale su cui vogliamo lavorare Il pannello in cui andremo a creare Le nostre composizioni Il pannello in cui andremo a creare Le cartelle in cui racchiudere i nostri file Organizzandoli al meglio Quindi il pannello progetto È un po' il cuore Di un progetto After Effects Perché qui avremo il nostro materiale Che poi lavoreremo In basso Un altro pannello essenziale In After Effects È il pannello che ospiterà i livelli Vedremo nei prossimi tutorial Che cosa sono i livelli Possiamo associarli alle tracce In Adobe Premiere Anche se ci sono delle differenze Che vedremo poi più avanti Però sappiate che quando create Una nuova composizione E inizierete a lavorare Ad un progetto After Effects Nel pannello in basso Qui avremo tanti livelli Dove andremo a disporre Il nostro materiale Andremo ad organizzarlo Andremo ad applicare effetti E quant'altro Sulla destra trovate Una serie di pannelli In realtà sono tanti pannelli Che potete trovare Qui sulla destra Seconda dell'area di lavoro Che avete aperto O dei pannelli Che avete già aperto Di default trovate Il pannello chiamato Effetti E predefiniti Qui sono tutti gli effetti Che è possibile applicare Alle nostre composizioni Che vedremo più avanti All'interno del nostro corso In alto c'è un'area Molto importante Che è l'area degli strumenti A mano a mano Che lavoreremo Con After Effects Scoprirete come sia possibile Creare delle forme geometriche Inserire del testo Creare delle copie Del materiale Con cui stiamo lavorando Eccetera eccetera Tutto questo è possibile Farlo con degli strumenti Che sono qui in alto Nell'area strumenti Di After Effects È un'area dinamica Perché a seconda Del tipo di oggetto Che noi stiamo attivando Qui sulla destra Vengono attivate O disattivate Delle opzioni Non le vedremo Ovviamente oggi Le vedremo a mano a mano Che dovremo lavorare Con questi Con questi strumenti La cosa importante Da ricordare però In questa lezione È che Come in Premiere I vari pannelli Possono essere Organizzati In spazi di lavoro Vale a dire A seconda Del tipo di compito Che state facendo Che state portando avanti Forse avete bisogno Di avere A portata di mano I pennelli Forse avete bisogno Di avere a portata di mano Le opzioni per il testo Forse avete bisogno Solo degli effetti Quindi a seconda Di quello che voi State facendo Potete organizzare I pannelli Come più volete Come in tutti i prodotti Adobe I pannelli Possono essere spostati Basta cliccare Sul nome del pannello E spostarlo Nell'interfaccia Nella posizione Che più Che più volete Per esempio qui Ecco che ho spostato Il pannello Della Della timeline Che abbiamo così In questa posizione Posso chiaramente Ripristinare la situazione Così com'era Riportandolo in basso Al centro Posso disancorare Un pannello Facciamo finta Che io stia lavorando Con due monitor E voglio Organizzare lo spazio In due monitor Cliccando Con il tasto sinistro Del mouse Vicino al nome Del pannello C'è un menu E in alto In questo menu C'è disancora pannello Questo è un pannello Che viene disancorato Esce fuori dal flow Di After Effects E potete posizionarlo In un altro monitor O dove più O dove più preferite Per ripristinarlo Basta cliccare Sul nome Del pannello E trascinarlo Nella posizione Nella posizione Desiderata Dicevo I pannelli Possono essere organizzati In aree di lavoro In spazi Di lavoro Come li chiama After Effects Tutto quello Che riguarda I pannelli Tutto Lo trovate Sotto il menu Finestra Ok I pannelli Che hanno una spunta Sulla sinistra Sono pannelli Già attivi Nella nostra interfaccia I pannelli Che non hanno una spunta Alla loro sinistra Sono spenti Quindi non sono visibili In questo momento Ipotizziamo Che io voglio attivare Il pannello carattere Clicco sopra E vedete che qui Mi viene aperto Il pannello Il pannello carattere Gli spazi di lavoro Sono dei preset Preset fatti da Adobe Per mettere insieme Tanti pannelli Che servono magari Tutti più o meno Ad una stessa cosa Abbiamo un preset standard Che è quello Che è attivo Di default Abbiamo Non so Il preset Schermo piccolo Se voi state lavorando Sullo schermo piccolo Il preset Predefinito Con un'altra serie Di pannelli aperti Disposti In questo modo Ma se andate Al menu Finestra Spazio Di lavoro Trovate tanti altri Preset Che potete utilizzare Se per esempio Volete lavorare Sul colore Delle vostre immagini C'è il preset Colore E vedete che vengono Aperti Altri pannelli Per poter gestire I colori Delle nostre Composizioni Oppure Non so Abbiamo il pannello Animazione Con già aperto Lo strumento Che serve Per gestire Le animazioni In After Effects Qualunque sia Il preset Lo spazio di lavoro Che voi avete scelto Di visualizzare Potete sempre Tornare ad un altro preset Basta sceglierlo Qui in alto Sulla destra Vedete qui c'è anche Una freccettina Che ci permette Di visualizzare I pannelli I preset Di spazi di lavoro Che in questo momento Non sono visibili Cliccare su uno spazio Di lavoro E se avete fatto danni Per esempio Avete un po' Ecco Rovinato Questo spazio di lavoro Giocando E sperimentando E volete ripristinare Tutto com'era Basta andare sulla voce Finestra Spazio di lavoro Ripristina Layout Salvato Di standard Che è il preset In cui ci troviamo In questo momento Vedete che tutto Viene ripristinato Ai valori di default Chiaramente Gli spazi di lavoro Possono essere anche salvati Potete voi creare Il vostro spazio di lavoro Basta andare sempre Nel menu Finestra Spazio di lavoro E scegliere la voce Salva Come nuovo spazio di lavoro Scegliete un nome Per esempio Test Dare ok Vedete che Tra i vari spazi di lavoro Avete anche il vostro spazio Test Che potete utilizzare E organizzare Come volete Questa è l'interfaccia Di After Non la approfondiamo Ulteriormente Perché molte cose Le scopriremo A mano a mano Che lavoreremo Con questo software Se avete già esperienza Con Adobe Niente paura È tutto simile Ad altri software Se non l'avete mai lavorato Con Premiere Ma non credo O con Photoshop O con Audition O con Illustrator Lavorate un pochettino Lavorate un pochettino Fate un po' di prove Sperimentate Spostate Ridimensionate Cambiate gli spazi di lavoro Ripristinate Se avete fatto dei danni Salvate il vostro Il vostro spazio di lavoro Customizzato Giocate un pochettino E vedrete che in realtà È tutto molto semplice Nel prossimo tutorial Vedremo che cosa sono Le composizioni La composizione È il cuore È il cuore Di un progetto After Effects E capire che cosa sono E come Crearle Come customizzarle Come gestirle È veramente molto importante Vi ricordo www.fabbiambrosi.it Sito dove troverete L'indice degli argomenti Di questo corso Introduttivo Ad After Effects Iscrivetevi a questo Canale YouTube Per non perdere I prossimi tutorial Se vi fa piacere Cercatemi su Facebook Cercate la pagina Fabio Ambrosi Mettete un like E teniamoci in contatto Ciao Grazie mille Al prossimo tutorial Ciao